Farle giocare il dritto in corsa in difesa. Il gioco è questo. Il gioco è innocuo. 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 è innocuo. Il gioco è innocuo. gioco è innocuo. controllo. il gioco è innocuo. gioco è innocuo. il gioco è innocuo. è innocuo. gioco è innocuo. il gioco è innocuo. il gioco è innocuo. gioco è innocuo. gioco è innocuo. gioco è innocuo. il gioco è innocuo. gioco è innocuo. Gaines Aprendashi Reedus Gaines Radbanzo il primoazy del match per Radbanzka Kerber in rimonta e sul tre Makarova e Loren Davies ci arriva? no, doppio rimbalzo nastro che è una mano vistosissima ci arriva? sposta lo scambio difensivo-inoffensivo stavolta Redmaster colpo in avanzamento questo smash è fin troppo morbido ha gestito per vantaggio di Rodriguez game game numero due Redmaster tiene a zero per la prima volta nel setta è lunga top il sottotitolo Sottotitoli salto bene 礦 Questa ci arriva Contro sborsata 0-40 3 match point Adesso non può sbagliarlo 30-40 però E la profondità di palla soprattutto Terzo match point E buono il terzo Le Jason Fe Per Agnieszka Radvanska Che vince la 500esima partita in carriera Fa festa Il pubblico I tifosi polacchi presenti a Wuhan Radvanska torna a battere Giorgis Per la prima volta in due anni Chiude 7-5 Per la prima volta in carriera E buono il terzo match Per la prima volta in carriera Per la prima volta in carriera Per la prima volta in carriera